Il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, nel mirino dell'assessorato alle politiche sociali di Roseto, il primo cittadino giuliese attraverso i social, aveva criticato il vicino comune per le modalità adottate nell'assegnazione dei buoni spesa alle famiglie bisognose per far fronte all'emergenza coronavirus. Aveva parlato di scarsa trasparenza, la replica non si è fatta attendere, a rispondere a Costantini l'assessore Luciana Di Bartolomeo. Io capisco che Ivan Costantini abbia voluto, come dire, per rispondere a delle critiche su una sua delibera molto restrittiva, abbia gestato ombre sulla trasparenza del comune di Roseto. Sono ombre che sinceramente rimostrano scarsa diplomazia politica e soprattutto evidenziano anche un po' di isolamento. A mio avviso, visto che il gruppo civico oltre, vicino a Costantini, notoriamente la compagina di Cassia, a terra ma invece fosti complimenti proprio a Roseto per la dottività e la semplificazione delle nostre procedure. Il comune di Roseto ha ottenuto circa 186 mila euro che verranno ora destinati alle persone in forte difficoltà e saranno i servizi sociali a stabilire i criteri, tenuto conto del fatto che hanno il polso della situazione sul territorio. Ritengo di aver applicato proprio la lettera quella che dice all'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, il quale dice che in questo caso noi dobbiamo dare aiuto a chi si trova una emergente economica dovuta proprio al Covid. Quindi non solo a quelle persone che solitamente aiutiamo, ma a quelle che si trovano una difficoltà momentanea e mettere dei criteri stringenti legati al patrimonio mobiliare e immobiliare adesso non è la risposta al nostro avviso, perché non riesci in questo modo a dare risposta a tutti quelli che effettivamente bisogna, che è quello che ci preme. Ad ogni famiglia dovrebbe andare una somma di circa 300-350 euro, ad essere aiutate anche le persone singole che in questo momento particolarmente difficile non hanno più un'entrata e si sono ritrovate all'improvviso in una situazione di indigenza. Ci possono essere delle persone sole che però non riescono a sobbarcarsi, non possono lavorare e che magari hanno un affitto, che si possono trovare una relazione peggiore di chi magari ha una famiglia con due coniugi, che invece magari può avere un'entrata. Ecco, che cosa vi aspettate adesso? Intanto la graduatoria come verrà stilata? Tra quanto tempo inizierete a derogare le somme? Allora, domande possono essere consegnate da oggi fino a lunedì, questo vuol dire che praticamente poi nella giornata di martedì, se riusciamo entro la giornata di martedì verrà stilata una graduatoria al massimo per sole di, di modo da dare buoni pasto prima di parto.